La accusano di opportunismo politico per avere cambiato posizione sul nucleare, ma il cancelliere tedesco Angela Merkel ribadisce le sue posizioni, chiusura immediata di otto siti e dentro dieci anni dei restanti diciassette. L'autunno scorso mi ero espressa per allungare la vita delle centrali nucleari tedesche, ma oggi dichiaro senza nessuna ambiguità davanti a questo Parlamento che Fukushima mi ha fatto cambiare posizione su ciò che concerne l'energia nucleare. Nella stessa direzione di una uscita dal nucleare va anche la Svizzera, il cui governo ha ottenuto dal Parlamento il mandato di chiudere le centrali esistenti entro il 2034. Da sabato, in base ai provvedimenti votati ieri nell'assemblea legislativa, non verranno concesse nuove licenze per centrali nucleari. Per il resto il complesso sistema giuridico svizzero renderà necessari diversi passaggi prima di fissare le modalità con cui abbandonare l'atomo civile. In Svizzera ci sono cinque centrali, tutte nell'est del paese.